Musica Quest'anno c'è questa opportunità di presentare l'attività delle nostre squadre nazionali, presentarle qui all'Expo, nella casa del nostro sponsor, uno sponsor che credo sia anche inutile commentare il nostro rapporto, perché è un rapporto che dura da 13 anni. Il movimento è il tema che ho visto da quando sono arrivato, i bambini si muovono, è pieno di giochi, quindi l'educazione al movimento è importante per poi arrivare a educare i ragazzi allo sport. Musica Riuscire ad avvicinare, come ha sempre cercato di fare Kinder, i giovani allo sport, credo che sia un valore importante, fresco, pulito. Musica 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 Musica